La fascia e il suo regno nelle ultime due stagioni ha incantato per velocità dribbling e cross, spesso monetizzati in gol assonanti dai compagni d'attacco. Ma il campionato 2010-2011 si sta rivelando un'altra storia. Benito Rivas, il re della fascia del Bari, è un po' triste ma non perde la speranza. Con il Brescia ha firmato una rete pesante, ma sinora il suo rendimento è stato a luce intermittente, la striscia più lunga sono i 67 minuti con la Lazio, ed è arrivato il momento di cambiare passo. Dobbiamo tornare a giocare come sappiamo, ha spiegato il tornante argentino, perché il Bari non è questo e la classifica merita ben altre posizioni. La fiducia di Mister Ventura non si discute, ma intanto a San Nicola domenica arriva il Milan. Il diavolo è forte eppure arrabbiato dopo lo stop con la Juve e la Real Beffa di Champions, ma per Rivas è l'avversario giusto per accendere la voglia di far bene e tornare a far frullare la palla. In questo momento ci dà anche sempre giocare contro il Milan, è anche una motivazione in più, e alla fine il Milan, noi abbiamo bisogno anche dei punti, però più che i punti è tornare a giocare, magari il Milan ci dà un po' più di spazio per giocare, per iniziare a trovare un po' più di fiducia, anche può essere l'inversa, perché loro sono tanti forti, possiamo anche soffrire tanto. Vedremo la domenica, non è come dico chi troviamo davanti o chi non troviamo davanti, sino ritrovare il nostro gioco.